A volte, quando alzo la testa dal lavoro, specie se è per qualcun altro che poi lo deve anche giudicare, avverto una specie di nausea fisica, che sicuramente deriva dalla posizione curva, ma va oltre. Ero arrivato a un punto in cui il lavoro mi disgustava come una medicina inutile. D'altronde il mio organizzatore aveva preso per me degli impegni che dovevo rispettare. Fortunatamente lui, il grigio, in questi giorni non si era fatto vedere. Devo ammettere che dopo la storia del Gallo, in un certo senso, mi era diventato quasi simpatico. L'avevamo fatta grossa. Speriamo che il grigio non parli, che non sia un infame. Renzo Maria De Ambris era un impresario teatrale sui 55 anni, con barba e jeans, che non rideva mai e incuteva un certo rispetto, non tanto per la sua severità, quanto per la sua struttura fisica. Mi raccontai il progetto. Mi feci anche vedere sul videotape lo spezzone di un vecchio film a cui mi ero ispirato e gli consegnai il dattilo scritto. Mentre sfoglio le pagine, mi accorgo che sono un po' smangiucchiata ai bordi. Evidentemente il grigio, al contrario di quello che pensavo, ha frugato tra le mie carte. E' anche curioso, eh. Noto sulla scrivania alcuni piccoli escrementi. Mamma mia, che vergogna. Speriamo bene. Alla fine della lettura, De Ambris sembra soddisfatto. Meno male. Non per il testo, non si è accorto di niente. Mi sorride annuendo. E con un gesto imperturbabile, prende tranquillo con due dita dal copione una cacca e me la consegna sul palmo di una mano. Grazie, dico io. Non doveva disturbarsi. Ero un po' scoraggiato. Lui, il grigio, sapeva tutto di me, persino del mio lavoro. Io non sapevo niente di lui, nemmeno da dove passava. Non c'è dubbio, è un animale intelligente. Ma non può essere più intelligente di me. Se mi impegno, che poi io c'ho anche i mezzi, lo dico. Se per esempio io piazzo il videotape e faccio un bel totale della stanza, lui arriva tranquillo, è chiaro, non conosce la tecnologia, e io so dove mi entra in casa. A quel punto tutto diventa più facile, siamo pari. Purtroppo mi accorsi subito che l'illuminazione non era sufficiente. Ci sarebbero voluti due o tre faretti, una corzzina, ma non ce l'avevo. Non ce l'avevo niente. Pensai di puntare l'alogena. Vabbè la luce. Speriamo non lo disturbi. Me ne andai letto abbastanza contento del mio teatrino di posa, ma dubitavo del mio sonno. Presi due tranquillanti. E' bello dormire. Tutte le persone che dormono sono più tenere. Forse perché ritornano bambini. Anche il più tremendo criminale o il più meschino egoista nel sonno diventano sacri. Mi piacerebbe addormentarmi bene. Addormentarmi profondamente come un uomo contento della sua esistenza. Dopo una notte mal trascorsa nessuno ci vuole bene. Ed è giusto. Ecco perché mia madre voleva più bene a mio fratello che a me. Aveva ragione. Aveva ragione lei. Io non sapevo dormire. Lui sì. Io da bambino ero già isterico. Un ragnetto nefrotico. Un rompicoglioni. Ogni tanto urlavo. Sì, di notte. Un urletto. Un incubo. O chi lo sa. Mio fratello era così tenero, bello, rilassato. Come dormiva bene. Russicchiavano. E anche tanto forte. Era sacro mio fratello. Mi da ricordare. Ogni notte lui era lì che dormiva con una tranquillità che lo faceva sembrare un vegetale progredito. E io un urlo. Un urlo tremendo. Oddio si sveglia. Si sveglia il vegetale. Allora arrivava mia madre infuriata. Eccola. Accende la luce. E giù botte. E giù botte. A me. Naturalmente. Sempre a me. Anche quando aveva tolto lui. Sempre a me. Ma sì che le botte vanno bene. Rafforzano l'animo. Si diventa artisti. Ho preso tante di quelle botte io. Che dovrei essere Dante Alighieri. Un urlo. Viva. Dopo una notte mal trascorsa nessuno ci vuole bene. Vedi giusto? Però mi tranquillanti. Fanno effetto. Vedi la chimica. Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? Dio che effetto. Qualcosa di schifoso sul lenzuolo sul letto. Una bestia. Dei peli. Dei peli. Il calore. Una bestia. Viscita veloce. Somma. Donna. Spacendo una luce e un attimo la labbra di Marcona. Buio. Era lui. Si era lui. Il topo. Mi è passato sul petto. Le tampette rosa schifose. Due secondi. Tre venti. Si. Il pelo vicino caldo bagnato repellente. Che schifo. Che schifo. Corro in bagno in ciampo. Scivolo. Sì. Il lavandino. Acqua. Mi lavo. Acqua. Non basta. Acqua. Acqua sì. Quello schifoso. Mi era venuto addosso. Sul lenzuolo. Sul letto. L'aveva fatto apposta. Non gli bastava invadermi la casa. Frugare tra le mie cose. Non era curioso. Era una provocazione. E pensare che mi stava diventando quasi simpatico. No. Voleva anche toccarmi. Sfidarmi. Quella rimane ripugnante. Oddio. Cos'è ancora lui? No niente. Il lavandino che perde. Meno male. Che spavento. Come mai perde già questo lavandino? Non importa. Non potevo rimandare. Dovevo difendermi da lui. Corsi al videotape. Speriamo che sia venuta la registrazione. ecco. La stanza. L'immagine non è bellissima. Ma non siamo mica qui a fare Bim Benders. Dai. A un certo punto nel video massimo. Così se passa sui tubi si brucia il culo. E vado a letto ma senza spegnere la luce. Mi giro. Mi rigiro. Mi agito ancora un po'. Poi non so bene come mi addormento. Pan cauti. Momoni. Ciao. Amore. Ma non so bene matito.